Credo di aver avuto una buona idea. Cazzo, mi piace, è veramente figo. La gente vuole andare su internet e curiosare sugli amici, allora facciamo un sito che dia a tutti quello che vogliono. Prendere l'intera esperienza sociale del college e metterla in rete. Il sito ebbe 2200 contatti in soli due ore. 22.000. Quello che ha fatto di Facebook. Wow, le nostre gruppi sono Sean Parker. Sean Parker ha fondato Napster. Molto piacere. Un milione di dollari non è figo, sai cos'è figo? Tu, un miliardo di dollari. Non sappiamo cosa può essere, non sappiamo cosa diventerà, sappiamo solo che è figo. Un milione! È fatta. Perché non vogliono te, vogliono la tua idea. Tu credi di conoscermi, vero? Ho letto parecchio. Sai quanto ho letto io su di te? Ho paura di rimarrare indietro. Ma più veloce di quanto... Che voleva dire rimarrare indietro? Fai il pieno di avvocati. Io tornerò qua per prendermi tutto. Gli darai un biglietto da visita dove c'è scritto sono l'amministratore delegato, stronzo. Ed è questo che ti auguro. L'accusa di violazione delle norme di sicurezza, violazione della privacy. Riguardo alle accuse di violazione della sicurezza, credo di meritare un ringraziamento da parte di questo consiglio. Non ho ben capito. Di quale parte? Chiara che diceva ora per prendermi tutto. Chiara che sta solo per prendermi tutto. Chiara che Legislativo. Chiara che dà un'accusa di violazione della sicurezza. Chiara che ci sia un'accusa di violazione. Chiara che accro